Siamo a Picerno con la signora Angelina che ci fa ascoltare un miracolo di San Nicola, la storia popolare di un miracolo di San Nicola. Siamo a Picerno con la signora, non mi la mancano, non mi la fanno morire il popolo della fama. San Nicola la grazia subito l'ha fatta, la via di Morina, aiutami, si è pigliata. Lo incontro a due mercanti davanti, chi ha questo mercante per noi? Il mercante, il mercante, dove andate? Quanto è il grano ha già comprato? Il grano lo vuole a noi, però a quattro ore il carino non ha pagato. San Nicola non posso scontrare il prezzo, a quattro ore il carino gli pagano. I soldi raccontano a una figlia, è più capace di rilasciare il diamante. Quando nella città di Bari voi entratelo, fino a che il cappelletto lo incontrate, fino a che il cappelletto lo pagasse. Insegnatemi la casa a lui, il mercante Nicola. I figli e i figli, credo che si rimpaccivano, puramente avrei sbagliato. Lui il mercante Nicola non aveva. Ma come lui non aveva? Dice, una quantità di grano si è comprata. I soldi raccontano, non aveva, è più capace di lasciare il diamante. Non me l'ha messo il diamante, fammelo vedere. Quando lo leggo e te lo torno a dare. Lo diamante lo leggero in e fuori. Vieta a buia, la sorta che aveva il cappelletto. Quando nella città di Bari voi entrate, fino a che il cappelletto lo incontrate, fino a che il cappelletto è in questo paese. Fammi sapere dove era la casa del mercante Nicola. Alla fine non so scordare. Non so potete andare all'ugrante che viene negoziato con i soldi. L'ugrante non vogliamo niente. L'ugrante non vogliamo niente. Però da noi è diverso. È diverso. Però siamo arrivati al fatto dove praticamente i mercanti arrivarono a parte. I mercanti arrivarono a parte. Andarono in chiesa e trovarono San Nicola. San Nicola loro che rompono. Già che l'ugrante siamo contrattati all'ugrante, e mezzo lo vogliamo che sia pagato. E' nato mezzo. A San Nicola si è donato. E' finito. Che bella, grazie. Sono chiuso tante anni. Questo è un miracolo di San Nicola. Del grano. Si dice pure dalle parti nostre in provincia di Salerno. Il dialetto è un po' diverso però comunque... Grazie. Grazie. Come vi chiamate avete detto? Angelina Curcio. Angelina Curcio. Bene.